Presso il Centro Commerciale Mongolfiera di Taranto, Degustimus, ristorante, pizzeria, caffetteria e ancora rosticceria, trattoria di mare, gastronomia con self-service veloce, vari tipi di pizza con impasto a lunga lievitazione, mini pizze, panderotti, pucce, taglieri di formaggi e salumi con calice di vino, piatti già pronti al banco, oltre a preparazioni espresse a vista. Dessert, frutta fresca, zona ristorante con specialità di mare e servizio a tavolo, servizio catering in sede o presso altra location, servizio ad asporto, servizio bar, Degustimus vi aspetta per la gastronomia e la trattoria di mare dalle ore 12 alle 16, per rosticceria e pizzeria dalle 10 alle 21 e 30, sapremo prendervi per la gola! Grazie